Così come le epidemie cicliche tipo le influenze di stagione, che ogni anno puntuali come un orologio svizzero si ripresentano, anche le emergenze estive dei rifiuti sono diventate un appuntamento fisso per i poveri gelesi. Arriva l'estate ed ecco che magicamente compaiono i cumuli di spazzatura ad ogni angolo della città. Il comune denominatore è sempre lo stesso, ossia la chiusura della discarica di Timpazzo ordinata dalla regione siciliana. Lo scorso anno, e fu il Tar a Sancirlo, la chiusura risultò assolutamente immotivata. Ma questo dettaglio, che dettaglio non è, qualcuno in questa disgraziata città ha fatto finta di non capirlo e soprattutto è stato bravo a non farlo capire alla cittadinanza. Quest'anno il problema non è stato solo locale, l'intera Sicilia infatti ha subito gli strali delle scelte bizzarre di chi governa Palermo. E così la nostra bella regione è stata ancora una volta deturpata sotto una montagna di spazzatura. Proprio nella stagione estiva, che per la vocazione turistica che è naturale di questa bellissima terra, dovrebbe produrre i frutti migliori in termini di immagine e di crescita economica. Ed invece il dramma dei rifiuti a sommergere città e contrade l'ha fatta ancora una volta da padrona. Ma guai a far dire ai pasdaran del potere che la colpa è di chi ci governa a Palermo, si rischia l'alesa maestà. Poi, certo, scendendo di grado e di responsabilità ci sono anche le colpe delle amministrazioni comunali e persino quelle dei cittadini, in particolare di quelli più incivili, che non solo la raccolta differenziata si rifiutano di fare ed oramai non c'è più scelta, ma abbandonano al primo posto possibile carichi indecenti di spazzatura. E siamo nuovamente all'emergenza dunque, ragione per la quale Agorà, che nella sua programmazione ordinaria è già in vacanza da un paio di settimane, anche ieri sera è andata in onda con una puntata speciale per parlare proprio di questa nuova crisi. In studio con il conduttore, un parter di ospiti di tutto riguardo, intanto il presidente della Commissione Consiliare all'Ambiente e alla Sanità, Virginia Farruggia del Movimento 5 Stelle. Quindi il vice sindaco di Gela ed assessore con delega all'Ambiente, Simone Siciliano. Ed ancora il direttore tecnico della discarica di Timpazzo, ingegner Sergio Montagnino, che ha spiegato in assoluta anteprima ad Agorà che la discarica, su ordinanza urgente del commissario straordinario del Libero Consorzio della ex provincia di Caltanissetta, verrà riaperta nei prossimi giorni, mettendo fine di fatto allo stato di emergenza. Presente in studio anche il responsabile locale della ditta Tecra, che si occupa del servizio di raccolta dei fiuti a Gela, Andrea Dal Canton, e quindi il segretario cittadino del Partito Democratico, Peppe Di Cristina, a completare uno studio dal quale sono emersi spunti assai interessanti e di profonda riflessione. Chi volesse perciò rivedere questa ennesima stuzzicante puntata della serie speciali estivi di Agorà potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera su Canale 10 a partire dalle ore 21, oppure già dalle prossime ore sui nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10.